Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Grazie. Chiara ha 18 anni, sei anni fa in un incidente stradale ha perso parte della gamba sinistra ma non ha perso l'entusiasmo nei confronti della vita. È stata la prima ragazza a partecipare al concorso di Miss Italia con una protesi classificandosi terza. Grazie.